buongiorno a tutti benvenuti al nostro stand river della fiera agricola di verona e come di nostra prassi anche quest'anno presentiamo delle novità abbiamo già presentate alcune alla fiera scorsa che c'è stata a rimini e passati pochi mesi riusciamo ancora ad avere delle novità in questo caso vi vogliamo introdurre le due nuove piastre riscaldanti per pulcini piastre oppure chiocci artificiali vari nomi vengono dati a questi a questi sistemi allora abbiamo due dimensioni di piastra una chiamata modello 700 il nome il nome che gli abbiamo dato noi è caleo quindi abbiamo il modello 700 per una capacità di 20 25 pulcini dipende dalle dimensioni del cucino dipende da tante cose però va da circa 20 25 pulcini la versione più grande invece è la 1400 abbiamo 40 50 pulcini le caratteristiche principali intanto il funzionamento sicure non abbiamo corrente ad alta tensione e quindi potete tranquillamente usarle in ambiente in casa negli ambienti casalinghi senza alcun problema poi abbiamo quattro piedini che le sostengono e i piedini sono regolabili in altezza per facilitare la regolazione lateralmente qui si possono leggere le misure e in modo da poterle mettere subito tutte quante all'altezza corretta dopo di che le possiamo fornire con o senza il sistema di antipollai chiamiamolo antipollaiamento questo sistema qui è un optional e sino alla piastra in ogni caso è rettangolare sotto mentre con il sistema anti appollaiamento facciamo in modo che i pulcini non riescano a salirci sopra e manteniamo così la nostra piastra sempre pulita ed efficiente in ogni caso la piastra è stata studiata per essere facilmente lavabile e pulibile con uno straccio perché è liscia e lucida proprio perché se nel caso i pulcini dovessero salirvi sopra è anche molto facile da manutenzionare altra caratteristica importante è il sistema di riscaldamento è un sistema innovativo che abbiamo brevettato e che praticamente consiste in un come si può vedere qua sotto è una lamina speciale è una lamina speciale con integrato il sistema di riscaldamento e quindi a differenza di tutti gli altri nostri competitor e noi abbiamo una distribuzione del calore molto uniforme e che i pulcini sinceramente preferiscono rispetto alla tradizionale resistenza che concentra il calore al centro mentre via via che si va all'esterno il calore diminuisce il nostro sistema invece il nostro sistema invece garantisce dall'inizio alla fine in qualsiasi punto della piastra riscaldante alla stessa temperatura e quindi i pulcini facilmente riescono a stare sotto e ad usufruire e ad apprezzare il calore che la nostra piastra emette il modello piccolo sarà messo in vendita a breve e seguirà poi quando la produzione sarà industrializzata riusciremo a mettere nel mercato anche la versione più grande